Ben ritrovati nell'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Si ritorna a correre sulle piste del Mediterraneo sabato 27 marzo con la 14esima giornata dedicata al galoppo. Si partirà alle 14.05 con le 5 corse in programma di cui due handicap da 8 e 8, uno legato ad una seconda trissa alla quarta competizione e quindi la chiusura affidata ad una condizionata da 11.000 euro e il premio X Factor. Si ritorna a correre, vi dicevo, perché il Dipartimento per le attività sanitarie e l'osservatorio epidemiologico, visto la situazione attuale dell'isola della Sicilia, ha trovato le modalità per cui effettuare manifestazioni equine che erano state invece bloccate per contenere il diffondersi della rinopolmonite equina, un virus aggressivo che sta coinvolgendo gli equidi di alcuni paesi nel mondo. Ha stabilito infatti che devono essere a posto con le vaccinazioni e che gli organizzatori dovranno predisporre un registro. Questo permetterà appunto le competizioni, lo svolgersi regolare dei convegni che invece sono saltati fine settimana scorsa, fine e inizio settimana scorsa. Andiamo però con ordine. Partiamo a livello cronologico, dalle 14.05 con il premio Masterchef Italia, handicap di minima. Sono le prime tre corse legate all'Ippica nazionale. Si affronteranno ai 1.200 metri di pista piccola con cavalli di quattro anni oltre. Sono 13 al via, guardiamoci il campo partenti che promette bene, nel senso che ci sono più linee che vanno bene in questo periodo, tipo Sciamatorio e Osho che hanno fatto prima e secondo in una competizione, ma anche Matura e Common Black che comunque hanno dimostrato di ben valere. C'è Dilual che da inizio anno non si ripete, Will ha acclaim che è ancora male per le ultime due competizioni affrontate, discreta si presenta Miramont Lady, poco a Siracusa ancora Hopeline Dash, quindi Belong You. È ritornato, ha messo sulle gambe appunto una corsa, sicuramente un soggetto pericoloso per la qualità e i mezzi che porta con sé. Male filira nel periodo, si vocifera bene su questa novità napoletana, di cui ci parlerà anche Carmine De Bernardo, caporale di scuderia e ancora male si shunter nel periodo, speriamo in una ripresa, poco all'esordio a Siracusa ancora ha dimostrato il numero 13 dello schieramento. Ci aiuteranno il proprietario Enzo Guerrieri e il caporale di scuderia Carmine De Bernardo per concentrarci sull'analisi delle competizioni. Diamo la parola a Carmine. È un bel handicap di minima, è aperto a tutti i concorrenti, un cavallo che spicca per me come a corso l'ultima è Osho. Common Black anche se è aggravato al peso, sembra un pochettino superiore a questi. E come terza moneta darei Iubris, una cavalla che da scorsi non è eccellenti però in questo contesto vuol dire la sua. È la novità numero 11, una novità napoletana. Sì. La seconda competizione è il premio Serie TV, abbinata all'Ipica Nazionale, 1200 metri in pista piccola per cavalli di tre anni. Sono dieci i soggetti che frequentano il campo partenti. Numero 1 di Mission Accomplice, che è sempre tra i primi, il suo nemico è il peso, 63,5 kg, sono tra i giovanissimi soggetti di grandi promesse. Ancora di mezzi si presenta Neciba, invece Principessa Rebbi ha piazzato le ultime due corse, quindi è comunque in buona condizione. Stentato si presenta Solaro Orange e Tip of the Tug, che va male negli ultimi confronti. Ha mostrato qualcosa in apostrofo, poi non si è ripetuto, anche Calalù è stato impegnato male nelle ultime competizioni. Ha una piazza sui 1200 metri, MyFly, vince in quell'occasione anche Secret Tour, che mostra comunque buona forma il numero 10 dello schieramento. Piace all'ultima sui 1700 metri, anche il numero 9 dello schieramento. Una corsa che si presenta aperta a diverse soluzioni, non scontata per nessuno e che permette appunto a molti di potersi esprimere. Sentiamo ancora Carmine De Bernardo. Il primo impatto, vedendo lo schieramento, Mission Accomplice. Principessa Rebbi, come terzo incomodo, di forte l'onco. C'è qualche sorpresa su questa competizione? MyFly. La terza competizione, il premio Il Collegio, è una corsa a vendere, 1800 metri in pista sabbia da affrontare con ben 12 soggetti al via. C'è qualcuno che doveva esordire la settimana scorsa e che appunto si presenterà questa volta, tipo Sire Emilio, Sormario. Novità è anche questo numero 2 dello schieramento, non corrono da alcuni mesi. Dovremmo vedere appunto condizioni e forme adattabilità sulla pista. Pochi riferimenti per Fehrman e Eichel, ancora invece più rodata e forse maggiormente più aggressivo si potrebbe presentare Laguna Drive in questa competizione. Altra novità è Saludecio, poco ha fatto Sam Iem e alterno sensazione poi. Male, Shocking Blue, che però ha sicuramente di suo grandi potenzialità. Piace invece il numero 10 di Surf Fortress, che vince all'inizio gennaio, sempre regolare e positivo e atteso appunto al rientro. Rientrato bene anche sopra Nercola e può migliorare, quindi appunto tutte queste novità, tra cui anche Sormario. Proviamo a parlarne con Enzo Guerrieri, che presenta sia Fehrman sia ancora Sormario, mentre andiamo a sentire anche Carmine De Bernardo, che è impegnato con Saludecio. Sì, abbiamo questo cavallo nuovo, Sormario, che abbiamo lavorato e ci ha fatto vedere che è capace insomma di affrontare questa ventoruccia. E poi c'è Fehrman, che facciamo la terza corsa, siamo andati con un po' di sfortuna perché l'ultima corsa è fatta quinto, però gli hanno beccato dietro, gli hanno fatto un bel taglio, il cavallo poteva fare qualcosa in più. Potrà sicuramente migliorare, anche se il campo partenti non è facile. Non è facile ma è alla sua portata, non c'è Masuf che adesso è incondizionato, invece la volta scorsa c'era Masuf che è un'altra categoria rispetto a questi qua. Chi puntiamo? Allora io, i due miei secondo me correranno benissimo, Fehrman e Sormario. E poi c'è sempre la conatra, questo quando dura, anche se c'è un po' di peso in più rispetto agli altri, c'è 59,5 kg. E Sir Forte, se questo cavallo rientra, allora è un cavallo che faceva le corse buone, anche se rientra potrebbe dire la sua. Sir Forte ha avuto un periodo di stop per vari problemini, oggi attualmente risolti e dovrebbe essere pronto per la categoria. Non è neanche una corsa impossibile? No, questo dico che dovrebbe essere pronto per la categoria. I cavalli da battere, la Una Drive, anche se porta 59,5, ma è un cavallo che corre con cavalli migliori, diciamo che è un po' sotto categoria. E sensazione poi. Premio Italians Got Talent abbinata alla seconda Tris nazionale. 1500 metri in pista grande per una competizione che vede schierati i cavalli di 4 anni oltre. Sono 14 al via. È una corsa difficile da pronosticare perché si presenta sempre bene e anche se ha appeso in Perizia, Grand Trip, che resta comunque positivo, tre vittorie, sbanca proprio anche sui 1500 metri, potrebbe veramente far bene. Poi c'è la linea di Siciliano Bello che dopo 4 volte secondo aspetta la vittoria, ha fatto peraltro una linea buona con El Tabal che è particolarmente regolare e che oggi è scarico. Principi Azzurro sicuramente può in questa partita dirla proprio. Otsuka Resama è attesa, benché regredita sicuramente si sveglierà prima o poi per le sue potenzialità già dimostrate qui a Siracusa. Tesan è un soggetto magari di mezzi e ogni tanto fa le sue espluato, poi invece regredisce. Vedremo come si comporta, bene anche a Prove the Dream nel periodo, un po' più in difficoltà e en blois muis. Non si ripete Power Sale dopo questo esordio su Siracusa che ha fatto. Giacomo Casanova è forte della sua quarta posizione all'esordio e mira a migliorare. Quindi Trifty One che potrebbe gradire questo tipo di schema. Stay Strong e Cima da Conigliano non recuperano forma per le loro potenzialità espresse. Quindi regolare a El Tabal e attenzione anche a Rusalca che ha fatto un grande progresso nell'ultimo confronto. Chissà se si ripeterà. Andiamo ancora con Enzo Guerrieri che spera appunto nella prima vittoria di Siciliano Bello dopo queste seconde piazze. E sentiamo anche lo stesso Carmine De Bernardo che invece ci prova con Giacomo Casanova. Siciliano Bello diciamo che sta correndo alla grande perché è sempre carico di peso. Adesso c'è 63 kg. Un cavallo che onestamente è pure carico di peso che ha fatto tre primi consecutive su Grand Trip che sta sbalordendo. Perché nel cambio di età il cavallo è venuto avanti e sta correndo alla grande. Poi l'ultima corsa mi è piaciuto anche Principe Azzurro che l'abbiamo castigato proprio sotto il palo. Però il cavallo ha corso bene. Secondo me è un cavallo che lotterà la corsa fino alla fine. Poi qualche pesino sotto. Scendiamo un po' giù. Chi ti potrebbe piacere? Eltabal per esempio ha fatto un legame con Siciliano Bello. Sì 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 sì. Eltabal è in linea con quelli buoni anche se gli danno sempre del peso. Però è un cavallo che in fondo viene sempre avanti e secondo me è di là la sua. Parlo di questa Rusalca che con 50 kg e mezzo il proprietario mi ha parlato che ha lavorato benissimo e potrebbe fare una sorpresina. Ha esordito con un quarto posto Giacomo Casanova. Si migliorerà? Sì lo proviamo in sabbia però non è che la mastica più di tanto. Il cavallo rientrava, ci ha soddisfatto con il rientro. Questo è un handicap riuscito molto bene a mio avviso. Quelli che hanno il peso aggravato sono cavalli secondo me con una categoria superiore. Non penso che non dovrebbero lottare per il podio. Quindi Grand Trip Siciliano Bello. Fino a dove arriviamo? Senti fino ai primi quattro secondo me sono tutti e quattro che possono lottare per la vittoria. Poi c'è De San che è un cavallo che ogni tanto si presenta da gran cavallo e poi fa due o tre prestazioni che delude un pochettino. Però in questo contesto può dire la sua. Giù tra i pescini? Giacomo Casanova se si adatta sul tracciato in erba e trova un po' il terreno morbido di sicuro sarà anche lui un cavallo che lotterà per i primi tre posti. La chiusura all'ippodromo del Mediterraneo sabato pomeriggio affidata ad una condizionata da 11.000 euro. Si va sul doppio chilometro di pista sabbia da confrontare con cavalli di quattro anni e oltre. Sono otto i soggetti al via. Anche questa è una corsa che dà chance a molti di potersi esprimere anche perché ci sono alcuni soggetti che hanno mostrato un incremento di potenzialità e mezzi. E chissà se ruperanno il posto e la scena a chi invece da tempo ormai a Siracusa eravamo abituati a vedere sui podi. Andiamo su Brandos Revenge in crescento, chiude con vittoria a febbraio, in linea anche con Special Rush già battuto. Così come la linea di Tell William, subito bella impressione con Piazza d'Onore a febbraio, è sui 1.900 metri. Era presente anche Orange Suite che gli finisce dietro, un Orange Suite che si dice invece ben recuperato anche nelle condizioni e nella forma e potrebbe attendersi un miglioramento. Sta bene, abbiamo incontrato l'allenatore Ficara e ci ha detto che sta bene, Domestic Art che è in forme di mezzi e ritorna sulle piste di Siracusa. Rientrato con vittoria e alza il tiro Masuf, ma è un soggetto che ha affrontato anche handicap principali a Napoli, quindi sicuramente vale, va tenuto sott'occhio. All'esordio ha fatto sesta Spiritara che comunque resterebbe l'outsider della situazione e dal rientro poco chiaro Sticker Round che dovrà sicuramente impegnarsi molto di più. Quindi togliendo il 6 e il 7 veramente gli altri sono tutti nella competizione. Sentiamo allora cosa ci raccontano Enzo Guerrieri e Carmine De Bernardo. Il cavallo onestamente ha attraversato dei momenti un pochettino che è stato giù di tono. Adesso abbiamo fatto le analisi, l'abbiamo controllato, sembra che è in ripresa, il cavallo ha lavorato bene, per questo lo stiamo presentando. Peraltro sempre piazzato però? Piazzato, però non è stato nelle sue possibilità che lui ci ha fatto vedere delle cose più in grande. Invece nelle ultime corse si è piazzata perché sembra un cavallo buono e dice sempre la sua. Però oggi lo presentiamo per domani che a dire il vero penso che lotterà fino alla fine perché è un cavallo un po' migliorato. Contro chi? Secondo me qua c'è questo Masuf che in sabbia ha dimostrato di essere un cavallo di prima. C'è 53 kg proprio con un pesino. Questo è il cavallo da battere per me della corsa. Poi c'è il vecchio Special Rush che è un lottatore fino alla fine. Sticcherà, quando dice sempre la sua, lotta fino alla fine. Però il cavallo che a me onestamente mi è piaciuto è questo che monta Giuseppe Cannarella, te il William. Masuf è un buon cavallo. L'handicap principale a Napoli fu sfortunato perché si fece, ebbe un problemino durante la corsa. Quel giorno poteva vincere benissimamente. Ha avuto un sette mesi di stop, è rientrato alla grande e il cavallo è venuto avanti almeno 100 metri penso. In questo contesto dovrebbe correre bene anche Tell William, è un cavallo anche se fa un po' più di distanza, però nell'ultima corsa ha corso benissimo. Orange Sweet non è un cavallo da sottovalutare. Non mi resta che ricordarvi quindi che il galoppo siracusano ritorna sulle scene sabato 27 marzo a partire dalle 14.05. Si chiude con una condizionata riservata a cavalli di quattro anni oltre sul doppio chilometro di pista sabbia, preceduta da una seconda trizza abbinata al premio Italians Got Talent. Arrivederci!